Ciao a tutti ragazzi! Oggi Cicabum ci ha mandato un altro pacco Come potete vedere abbiamo i nuovi, nuovissimi Digipop Apriamo un po' Ed eccoli qua Sono dei mini giochi da fare Sfidando con i vostri amici I vostri fratelli, le sorelle E ci sono sei versioni Come potete vedere queste sei versioni Del panda, il koala, la tigre C'è anche Hello Kitty Sì, quello grigio C'è anche Hello Kitty per le femminucce E si possono giocare da bambini superiori ai 4 anni Quindi Mattia può giocare E vi faccio vedere Che si possono trovare Nelle migliori edicole Nei migliori negozi di giocattoli Oppure vi lascio il link in descrizione Dello shop online E su questo avrete uno sconto Del 20% Vediamo E cosa abbiamo trovato all'interno? Io ho questo blu Bellissimo Bellissimo anche questo della tigre Allora Ci sono varie modalità Si accende, c'è la musica Si può impostare il volume E dobbiamo essere molto astuti A digitare tutti i pop-it Che si accendono Chi vincerà? Siete pronti a sfidarvi? Facciamo vedere un attimo come si accende Allora ci sono i tre pulsanti Allora, no, questo si accende Vedete? Poi c'è l'intensità di volume Poi allora, da dietro Vedete qua? Si schiaccia E dovete schiacciare Tutte Le lucine che si accendono Vedete? Dovete essere più veloci di tutti 3 2 1 Via! Dove si accende? Vai Mattia, vai! Vai! Bravo! Ma non si accende! Muovi questo Queste sono tutte le modalità Vai, schiaccia in giù Tu hai vinto Vai Mattia, vai! Vai, livello 2 Come ci do qua? Togli il ditino Togli le dita Vai! I'm back Level 3 Level 3 Livello 3 Ah, arriva Lo secondo Questi sono dei giochi bellissimi E sono anche molto indicati per i bambini Perché? Dicevo, sono belli perché I bambini Devono memorizzare Le varie fasi dei livelli E quindi È un gioco Anche di memoria Mi raccomando Si possono acquistare Nelle migliori edicole Nei migliori negozi di giocattoli E soprattutto Sullo shop Di Chica Boom Dove vi lascio il link In descrizione E lo sconto Che vi effettuerò Se questo gioco vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale E condividete i nostri video Con i vostri amici Ciao Mentre loro continuano a giocare Che adesso sono impazziti Per questo gioco Io vi saluto Ciao Ciao Ciao